Sessantaduesimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La chiesa ricorda Santa Delinda Vergine. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Delinda. Il nome deriva dal latino e significa consacrata. Accadde oggi. Il 2 marzo del 1951 si gioca a Boston il primo NBA All-Star Game. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 2 marzo ricordiamo i cantanti Lou Reed e John Bon Jovi. La citazione del giorno. Morire non è nulla. Non vivere, spaventoso. Victor Hugo. Dice il saggio. Non avere paura dell'attacco di un nemico. Temi piuttosto l'abbraccio di un finto amico. Il bel paese. Volete visitare un castello da fiaba? Il castello di Fenis, in Valle d'Aosta, è il castello medievale per eccellenza. Situato sulla sommità di una collina circondata da verdi prati, il castello è dotato di torri e mura merlate e unisce ai caratteri tipici della fortificazione quelli della residenza signorile. Fu infatti la prestigiosa sede di rappresentanza della nobile famiglia Chalain, che lo dotò di eleganti decorazioni pittoriche, simboli di potenza e di prestigio. Pur non possedendo più la mobilia originaria, la fortezza è interamente arredata, restaurata e curata in modo tale che sembra sia ancora abitata.